Se trovo un no skin, il video finisce Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo a Pleasant Park per tentare la sfida di oggi Che se trovo un no skin, il video finisce Allora, sono un po' spaventato E anche no, perché in realtà trovare un no skin di questi tempi è ormai impossibile Tutti hanno skin, io in primis Anche io che non utilizzo mai skin, cioè di cui non mi interessa praticamente nulla Quindi non lo so, vediamo un po' come ce la caviamo Vi ricordo assolutamente però voi di acquistare le skin con il codice credoreforto all'interno dello shop Patelos, ciao Fatelo sempre ragazzi, mi raccomando, non vi dimenticate Sempre solo codice Credoreforto, ma quelli erano no skin? Ma questi sono tutti no skin? No, ma che è?